Ben ritrovati! Oggi cucineremo insieme queste schiacciatine alla zucca. Sono davvero squisite, senza uova, super veloci da fare e hanno la crosticina croccante e sono morbide dentro. Davvero buonissime e adatte a tutti, soprattutto ai bambini che con le verdure hanno sempre un rapporto strano. Queste le divoreranno. Vediamo insieme cosa ci serve. Ed ecco qui tutti gli ingredienti che ci servono. Allora, 180 grammi di purea di zucca, quindi zucca cotta e poi ridotta in purea. 450 millilitri di acqua normale, 230 grammi di farina, 30 grammi di olio extravergine d'oliva, una manciata abbondante di formaggio parmigiano, un formaggio che a voi piace, un po' di farina gialla, ci servirà per portare il composto e la consistenza che desideriamo, e il rosmarino che ci servirà poi alla fine da mettere sopra nella teglia. Un pizzico di sale e il gioco è fatto. Adesso spostiamo tutto e cominciamo ad unire gli ingredienti. Vedrete che sarà assolutamente facilissimo. Allora, cominciamo con mettere la farina. Io ne metto un po' alla volta e la uniamo alla purea. Intanto cominciamo a mischiare. Pugiamo l'acqua. Filiamo tutta la purè. Ecco qua. Ogni grammo. Perfetto. Messa tutta la purè, finiamo di mettere anche tutta la farina. Aggiungiamo l'acqua. L'olio. Magari mi aiuto per farlo scendere. Poi in realtà l'olio lo metteremo anche un po' sopra. Verrà molto buona perché verrà croccante all'esterno e bella morbida dentro. Ed è un modo per far mangiare anche le verdure ai bambini. Allora, io metto il formaggio perché a me piace tanto, ma ovviamente potete anche fare a meno. O, se avete diete particolari, vegane, potete anche non metterlo. La consistenza non è male, ma vado a finire di mettere l'acqua che mi era rimasta ancora un goccio. E poi aggiungo comunque un po' di farina gialla che dà farina di mais che dà un po' di croccantezza anche all'interno. C'è già un buon profumino. Giusta un po', non molta, perché poi il resto lo metteremo... Ecco qua. E adesso via nella teglia. Ecco qua. La mia teglia. Con la carta a forno e vado a versare sopra il composto. Mi aiuto con la spatola. Vado a livellarlo. Poi comunque cuocendosi andrà anche nei bordi. Cosa ne dite? Ecco qua. Adesso un po' di rosmarino. Un altro po'. Poi una bella spolveratina di farina gialla. Un filo d'olio. E poi io metterò anche un'altra spolveratina di formaggio. Sembra davvero squisita. Adesso andiamo ad infornare a 180 gradi. Forno pre-rescaldato ovviamente. Per più o meno un 30-35 minuti. E poi, come al solito, bisogna un po' andare ad occhio. Vedere che la parte sopra sia bella croccante. Ecco la nostra schiacciata appena sfornata. Il profumo è assolutamente delizioso. Adesso non ci resta che tagliarla in cubotti. più o meno grandi in base ai vostri gusti, al vostro appetito. Guardate, è davvero soffice dentro e ha la crosticina croccante. Davvero squisita. Tagliamo a pezzi e mettiamo in un piatto da portata. E il gioco è fatto. Davvero deliziosa. Ed ecco qua. Pronta per essere servita ed essere gustata. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un bel like sotto al video e iscrivetevi al canale. Così da poter vedere tante altre ricette gustose, ma soprattutto semplici e veloci. Buon appetito!